Jordan Peterson, uno degli intellettuali più controversi degli ultimi anni. Peterson ha dominato la scena intellettuale internazionale con polemiche su qualunque argomento e devo dire che ogni volta che lo si nomina arrivano i detrattori, gli odiatori, quelli che praticamente vedono in lui la figura del diavolo in persona e quelli che invece lo vedono come il salvatore dell'umanità. Estremamente polarizzante. Io non mi voglio esprimere su di lui come persona o come intellettuale, non è questo lo spazio per farlo, ma ho trovato un video online della durata di due minuti di un estratto di una sua live in cui parla di come ricordare, come imparare, come leggere, capire e studiare al massimo potenziale della mente. E allora volevo guardare insieme a voi che cosa ha da dire il buon vecchio Jordan e fare una reaction e poi chiaramente criticare quello che c'è da criticare e dare ragione dove c'è da dare ragione. Tra l'altro alcuni mesi fa ho comprato il best seller internazionale di Peterson, 12 Rules for Life, ne ho letto 50 pagine più o meno e poi mi sono stufato perché è pesantissimo. Conto di riprendere a leggerlo e finirlo più avanti e poi di farci una recensione, positivo o negativa, si vedrà. Nel frattempo se qualcuno di voi fosse curioso o curiosa di sapere che cosa ne pensi io nello specifico della figura di Peterson, vi posso dire che circa nel 50% dei casi trovo interessante quello che ha da dire, stimolante, mi interessa, nell'altro 50% dei casi vorrei tirarlo sotto con una macchina. Ma questo è un altro discorso. Oggi siamo qui per vedere che cosa ne pensa Jordan Peterson della lettura, dell'ascolto, degli appunti dello studio. A proposito, troverete il link in descrizione di questo video brevissimo che commenteremo insieme e tra l'altro non è un video prodotto direttamente da Jordan Peterson ma estratto come dicevo da una sua live e commentato e disegnato sopra. In ogni caso, pronti a partire. 3, 2, 1, via. Tra l'altro, veramente incredibile la sua pronuncia canadese, fastidiosissima tra l'altro, secondo me, però va bene. Ok, quindi gli chiedono se ha qualche consiglio per prendere appunti da un libro o da delle lezioni. Ok. Ok, mi fermo subito. La prima cosa che dice è non prendere appunti, non produrre appunti durante la lezione. E qui, subito, non sono d'accordo con lui. Non sono d'accordo, però, però, penso di intuire da dove viene questa sua affermazione. Ci sono molti professori, specie professori universitari, che dicono questa cosa, no? Ascoltatemi, capite quello che devo dirvi, non prendete appunti. Ecco, questo nasce, secondo me, da una concezione errata di che cosa voglia dire produrre degli appunti. Se il vostro appunto è una trascrizione, è una sbobinatura, è un dettato, allora ha ragione Jordan Peterson. Non ha senso farlo, piuttosto ascoltate la lezione. Ma se gli appunti sono invece intesi come un processo di ragionamento, proprio sulla base di quello che ascoltate, un processo che accende la vostra mente, che vi rende attivi e non passivi, allora, a torto, è meglio pigliare appunti che non pigliarli, sempre però se si tratta di appunti attivi, partecipati, complessi. Sentiamo cosa dice. Ok, questo è proprio il concetto. Sì, ha ragione lui, se invece di ascoltare la lezione trascrivete semplicemente, non vi sta servendo a niente. Ma non è quello il tipo di appunti che io vi consiglierei. Questo è interessante, interessante. Take notes afterwards, cioè dopo che finite la lezione, create i vostri appunti. Ecco, se non ero d'accordo con questo aspetto qui iniziale del non prendere appunti durante la lezione, trovo però invece interessante l'idea di prendere appunti dopo la lezione. Ed è un concetto questo, che ritorna sia con il metodo Cornell, di cui vi ho parlato tante volte, sia con il metodo del KVL, di cui vi ho parlato, su cui ho fatto un video, il metodo pensato da Donna Ogle. E l'idea è quella proprio di, alla fine della lezione, ritagliarsi un momento in cui ragionare su quello che si è sentito, fare un breve sommario, segnarsi delle domande e provare a verificare di aver capito davvero e di ricordare, almeno in parte, quello che è stato affrontato. E questo è un ottimo stratagemma, è una versione in realtà interessante sia della rielaborazione che del retrieval effect, della pratica di recupero, del testing, potremmo chiamarlo così. Quindi, su questo non ha torto. Prendersi un minuto dopo la lezione, per scrivere qualche nota, per fare un sommario, per recuperare e richiamare le informazioni è un'ottima idea. Ancora lo dite. Ecco, force you to practice remembering. Questo è esattamente quello che dicevamo, ed è giusto. Quando voi vi sforzate di recuperare le informazioni e di ricordare, le state consolidando il principio classico dell'active recall, del testing, e funziona. Andiamo. With regards to books, it's like read. Ok, sui libri. Don't highlight, don't underline. Ok, don't highlight, don't underline. Non sottolineare, non evidenziare. E sono d'accordo, ancora una volta però, noto che il buon Jordan Peterson ha un'opinione simile alla media degli accademici, come dire, americani e in questo caso canadesi, e ci sta. C'è un'ampia letteratura scientifica sul fatto che la sottolineatura classica non serve assolutamente a niente. Vi ho consigliato già in passato il libro Make it Stick, che lo spiega veramente molto bene perché sottolineare, evidenziare a casaccio, come fanno normalmente gli studenti, non serve assolutamente a niente. Adesso sono curioso di sentire che cosa lui intenda. Però attenzione, perché c'è una bella differenza tra sottolineare ed evidenziare come si fa alla vecchia maniera e fare una ricerca accurata e una selezione delle parole chiave. Quella è una cosa completamente diversa. Se selezionate le parole chiave, come insegno tra l'altro nel mio manuale Leggere per sapere è gratuito, lo trovate qui sotto per scaricarlo, allora lì ha senso, perché ancora una volta state facendo un processo attivo, state mettendo in moto la vostra mente. Se invece sottolineate in maniera pigra come si fa normalmente a scuola o anche all'università, allora sì, ha ragione Peterson, non ha senso farlo. attenzione, bella questa cosa, pseudolavoro. Ne abbiamo parlato tante volte anche quando abbiamo parlato di procrastinazione, quindi sono d'accordo con lui al 100%, la sottolineatura classica è pseudolavoro, è procrastinazione mascherata. Ok sì, allora lui dice leggete un po' di paragrafi, magari un intero capitolo o un intero articolo eccetera e poi scrivetevi, pensateci, ragionateci a fondo e poi scrivete quello che state pensando. Allora interessante la questione della scrittura e della rielaborazione, sono d'accordo con lui sulla rielaborazione, io non lo farei però in forma discorsiva, quindi non scriverei un riassunto o un trattato, ma creerei uno schema, ma il concetto comunque di rielaborare c'è, non sono d'accordo con lui sul fatto di leggere paragrafi o addirittura un capitolo o un articolo, un pezzo intero, perché secondo me è troppo, è troppo e il rischio è di dover ritornare a rileggere. Lui dice depending on the density of the subject, cioè quanto è denso e pesante l'argomento e ci sta, però la maggior parte degli argomenti universitari è meglio affrontarli periodo per periodo o al massimo un paio di frasi alla volta. Ok, questo è fondamentale. Il contesto, la rielaborazione, il pensiero e il ragionamento e il bat 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 è quello che crea veramente il ricordo a lungo termine. Questo è fondamentale, giustissimo. Se vi limitate a cercare di assorbire le informazioni senza farle vostre, chiaramente dureranno pochissimo. Ecco, questo è interessante. Come fa Peterson a ricordarsi tutte le cose, ma lui o qualunque altra persona che parla in pubblico, anch'io voglio dire, come fa a ricordarsi tutte le cose di cui parla nelle sue lezioni, nei suoi spettacoli, nei suoi eventi? Eh beh, probabilmente perché le ha macinate, le ha rimuginate a lungo. Adesso sentiamo lui cosa ci dirà del suo segreto, ma mi immagino che il punto sia questo, quando tu mastichi un argomento, quando tu ci stai sopra, quando tu ci ragioni, ci investi, lo capisci a fondo, naturalmente poi lo ricordi con più facilità. Ce l'ho pensato bene. Questo è molto importante, molto preciso. Come si connette quello che abbiamo appena letto, ascoltato, imparato, con tutto il resto delle mie conoscenze? Ecco, questo è veramente fondamentale. Il momento in cui noi prendiamo le conoscenze e le correliamo con qualcosa che sappiamo già, è il momento in cui stiamo veramente inserendo il nuovo elemento di conoscenza all'interno della nostra rete di conoscenze pregresse e stiamo migliorando, stiamo imparando davvero. E' un approccio critico. E' un approccio critico. Sentite queste parole, è parte di me. Questo è molto importante. A prescindere da cosa possiate pensare di Jordan Peterson, questo è veramente il consiglio più importante, forse che ha dato in tutto questo video. Diventa parte di te. Quando qualcosa è parte di te, ricordarlo non è un problema. Sta descrivendo in una maniera un po' alternativa il processo di active recall e quindi di richiamo attivo, di recupero attivo, che sappiamo essere il meccanismo principale per consolidare i ricordi. Ok, quindi lui separa nettamente la fase della lettura dalla fase della creazione di note e punti schemi e postarci. Read, think, write. Ok. Read, think, write. Prima leggi, poi ci pensi, poi scrivi. Ha senso. Certo. La riscrittura è di nuovo una perdita di tempo. Non ha senso leggere una frase e poi riscriverla. Non porta a nulla. You could read the sentence, close the book, and then re-formulate the sentence so that now it's your sentence. Re-formulate the sentence. Fondamentale. Quindi riformula. Rielabora. And then you'll remember it. Then you'll understand it. That works really well. Ok, finisce qui il video. Devo dire, molto breve, naturalmente non l'avevo visto tutto, quindi l'avevo soltanto schimmato un paio di secondi per capire se avrebbe potuto essere sensato farci una reaction sopra, ma mi aspettavo più o meno una posizione di questo tipo. La letteratura che Peterson cita indirettamente o direttamente, non lo sappiamo se aveva in mente proprio i lavori scientifici di scienze cognitive in merito, però è corretta, quindi in generale la sua posizione è corretta, le cose che dice hanno dei solidi fondamenti scientifici. Al tempo stesso è forse un pochettino arretrato il buon Jordan sulle pratiche di studio efficace più moderne e quindi sicuramente dice delle cose giuste, non sottolineare in maniera stupida, non trascrivere la lezione eccetera eccetera, però non è aggiornato moltissimo su quelle che sono le pratiche di studio attivo che vanno un pochettino a risolvere questi problemi senza necessariamente portare ad uno studio molto lento. Ecco il metodo che emerge da questo video di Jordan Peterson è un metodo molto lento, nel senso che lui fondamentalmente dice devi pensare a lungo alle cose, devi rielaborarle un sacco, devi pensarci, devi usarle e poi te le ricordi che è giustissimo ma non è molto efficiente. Ecco quindi devo dire le basi ci sono, la letteratura probabilmente la conosce molto bene, cosa che emerge spesso dal lavoro che fa Peterson, però forse qualche piccolo aggiustamento si potrebbe fare. A questo punto non vedo l'ora di sapere che cosa ne pensate voi, ho fatto un video un po' diverso dal solito, non per pigrizia mi raccomando che anche le reaction sono dei video molto impegnativi, assolutamente insomma, però comunque ci siamo divertiti insieme e fatemi sapere se vi piace che ogni tanto dia un'occhiata a quello che dicono e che pensano e che affermano a video personaggi rilevanti, magari addirittura personaggi divisivi e un pochettino controversi come in questo caso e fatemi sapere appunto che cosa ne pensate di quello che ha detto Jordan Peterson, di quello che ho detto io, del video in generale. Dario non era d'accordo nel fare la reaction, a lui non piace ma chi se ne frega. Io sono sempre Alessandro Deconcini e prima di salutarvi vi ricordo, se volete veramente trasformare il vostro metodo di studio, oltre ad ascoltare Jordan Peterson, soprattutto acquistate Sistema DC, il mio videocorso completo di metodo di studio che vi trasformerà in dei maestri dell'apprendimento e per il resto lasciate mi piace, iscrivetevi al canale, campanella e tutto il resto. Ci vediamo nel prossimo video, io vi parlo tutti i giorni di apprendimento, metodo di studio, cognizione, cultura e produttività. Ciao a tutti! Ciao a tutti!